ci sarà da ridere ci sarà da piangere non da ridere stanno cercando come suicidarsi allo spawn qui e vada allora Yalzo Jungle Calista, Yalzo Jungle e Cazzo Jenny Aspetta, Penny è mid no ha l'exhaust è Nautilus non vedo Nautilus è l'ultimo, è Nautilus sempre con exhaust e chi cazzo va a top, Penny? penso Nautilus con exhaust però boh la gente è strana faresti pic strani, non capisco ok no, perché ci sei andato così di cattiveria? oh fuck va benissimo così tanto tranquillo tutto un po' perché ci sei andato così di cattiveria? io volevo solo arrasare non chiedere agisci fammila sittare qualcosa col cargo cannocino, prendo il cargo prendo il cargo no, 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 no tu vai, tu vai io vado a crescere vai tranquillo io vado a mettere confido delle mie meccanics inesistenti di Asus posso andare ad aggressivi per favore? va bene ah, hanno già paura abbiatene pauratevi mi dovete spaventare ma come ti ho curato bene? lo sta andando malissimo me la reggo anche di fare sta andando addio sta cosa ciao io ho messo una ward no, vattene oh fuck l'exhaust addio l'ho salvato comunque l'exhaust l'ho salvato malissimo perché? le ward sono l'item più bello io compro una vision così a cazzo non so cosa farmene però arrivo ho una vision basta che ti monghi sei contento? scappa! c'è Yasuo oh fuck scappa flasha fai qualcosa fatelo fatelo va bene uguale no, non farti lui e lui ti fa male oh anch'io bitch te l'ho lasciato in realtà lo so avevo detto siamo riusciti a prenderla prima che scompariste poi mi sono ricordato che ho messo la vision quindi c'è cg tata cg dimmi quando vuoi andarci quando vuoi però non subito usare gli ulti perché non ce l'uccidiamo altrimenti ancora quanto vuole volete mettere? ve le uccido tutte mi piglio i soldi sappiatelo con tutti i loro quando vuoi comunque ok facciamo a pensare di venire qua che cosa stupida boom è stato bellissimo e tutto questo solo per questo signori esatto noi abbiamo fatto tutto questo solo per questo volete di gloria e ne è valsa la pena tantissimo io la fai ti devi spaventare anch'io minchia che cos'è sto oh no sai che hai fatto una cazzata il blank era la copia no in realtà mi aveva baitato malissimo è rimasta ferma io con questo item ho sull'altro progress fuck ok oddio pensa a fiora con quell'item oh i tuoi oh madonna eh ma fiora non ho bisogno stop attack salve wait for it dai 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 no merda vacci 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 oh fuck oh merda io stavo stavo distraendo la torre per te ti voglio bere tanto e non me la faccio però va bene così oh oh dio ero tipo io scappo scappo cioè ti rendi conto che abbiamo vinto una lane sì cioè io sono 1-1-1 quindi è tipo ok io sono 4-3 più le cluster di così non si può andiamo da Yasuo vogliono andare a farsi il tizio strano del baron per un uovo eh ho la final eh preso no nope no cazzo e vabbè non me ne ho che fai dove vai ah ok fiora gli ha infilato una spada nel culo oh yes dove sta andando Zed hanno subrendato sì ok gioco ai videogame tra quando avevo due anni adesso sono il re del let's play one wait